Prego, prego. Nelle stesse indagini uno degli indagati ha reso importanti dichiarazioni in merito agli investimenti illeciti realizzati mediante i profitti del traffico di sostanze stupefacenti e ha indicato in ciò due quadri di grande valore che sarebbero stati acquistati dall'imperiale e che erano il risultato di un furto commesso nel museo Van Gogh di Amsterdam quasi 14 anni fa, e cioè nel dicembre 2002. La squadra. 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 La squadra, la squadra. Un agli appassi generale, sono gangbionati di arrigero del pubblico questo. Questo sul fatto che fate sempre per polarizzare l'idea ombMC. via the roof and through the windows and it happened in very very quickly back then so that's how it happened 14 years ago